Una chiesa dal respiro universale, aperta al mondo e capace di raggiungere anche le realtà più piccole e lontane. Una chiesa che ancora di più nel pieno della pandemia è chiamata a soccorrere i più deboli andando in aiuto di quelle realtà che vivono poggiandosi esclusivamente sulle collette domenicali come avviene in tante diocesi africane o asiatiche colpite duramente dall'emergenza coronavirus come spiega Gian Pietro D'Altoso, presidente delle pontifice opere missionarie. Per concretizzare questo vorrei darvi tre esempi. Il primo è l'aiuto che abbiamo dato ad un convento di religiose di clausura in Marocco, religiose che notorialmente vivono di provvidenza e in ragione della loro vocazione vivono sostanzialmente dentro il loro convento. Un altro esempio è stato il sostegno a famiglie cristiane nel Bangladesh, una minoranza minuscola e estremamente povera in un paese spesso provato da cataclismi naturali. E un terzo esempio che vi posso dare è il supporto che abbiamo dato a diverse stazioni radio e tv in Africa per la trasmissione di catechesi e di celebrazioni liturgiche vista appunto la difficoltà di celebrare in presenza. Realtà piccole, spesso lontane, ma che sempre di più rappresentano il cuore di una chiesa dallo sguardo universale. Una chiesa impegnata su tanti fronti, dalla pastorale alla sanità all'assistenza educativa con milioni di studenti in tutto il mondo. Stando ai dati pubblicati dall'agenzia Fides è una chiesa viva. Aumentano i cattolici nel mondo, restano stabili le vocazioni al sacerdozio, mentre cresce l'impegno dei laici soprattutto in campo missionario. Diminuiscono invece le vocazioni alla vita consacrata.